Cinque ordinanze di custodia cautelare di cui tre in carcere, il sequestro preventivo di un'agenzia di scommessi a Pescara e di tre conti gioco, tre motocicli e un'autovettura. E il bilancio dell'operazione Master Cleaner che da questa mattina all'Alb ha visto impegnati 70 carabinieri nelle province di Chieti, Pescara e Ravenna. Provvedimenti emessi dal GIP di Pescara de Rensis su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Andrea Papalia. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara si sono portate per circa un anno e hanno consentito di individuare 13 indagati complessivi per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio abusivo di attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori. Il focus principale è un 41enne, noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rimpiegato il denaro provente dallo spaccio degli stupefacenti in attività commerciali solo all'apparenza lecite. In particolare una sala scommessa a Pescara che attraverso puntuali riscontri è risultata tuttora nella disponibilità dell'uomo ma con autorizzazioni intestate a una persona di sua stretta fiducia che figura tra gli indagati che dovrà rispondere di concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Abbiamo documentato come sui vari conti gioco facenti capo a questa agenzia di scommesse venissero movimentati mensilmente varie centinaia di migliaia di euro quindi ciò serve al pregiudicato di fatto senza un'occupazione fissa serve a dimostrare il possesso di capitali che non potrebbe dimostrare. Riuscire a dimostrare il trasferimento fraudolento di valori in capo agli arrestati è stato il passaggio chiave dell'operazione dato che sempre più persone trovate in possesso di consistenti quantità di denaro esibiscono titoli relativi a vincite di gioco che dimostrerebbero in maniera difficilmente incontrovertibile la provenienza lecita del denaro. Per tale motivo durante le investigazioni sono stati richiesti all'agenzia di scommessa gli elenchi dei conti gioco accesi nella citata sala scommesse. Con vincite fittizie sì magari vincite non conseguite dallo stesso ma usate come pezza d'appoggio per giustificare appunto il capitale accumulato. Le persone sottoposte a misura cautelari sono già conosciute alle forze dell'ordine ed una di queste fino ad oggi ha beneficiato del reddito di cittadinanza. La moglie di uno dei principali indagati attinta anche ella da misura cautelare personale fino ad oggi ha percepito il reddito di cittadinanza.